Ehi, benvenuti un'altra volta su Glicerod e bentrovati in Don't Starve, siamo tornati su Don't Starve per provare l'ultimo DLC che si chiama Hamlet. Stravolge di nuovo le meccaniche e introduce nuovi oggetti, nuove stagioni, nuovi personaggi, un sacco di roba. È estremamente complicato, l'ho dovuto prima provare un po' per non farvi vedere morti su morti su morti su morti. Non escludo che questo succeda comunque, ma ci proveremo un po' di volte. Allora, sulla meccanica di questa serie ne parliamo durante la partita. Il personaggio, c'è un nuovo personaggio, due nuovi personaggi in realtà, ma uno è sbloccabile. Volevo partire, stavo pensando se partire con un Wilson normalissimo per poi farvi vedere successivamente l'altro. Ma proviamoci. Perché avevo due dubbi? Perché questo personaggio non è facilissimo all'inizio. E vi spiegherò volta per volta, piano piano, quali sono le sue caratteristiche. che si chiama Warbucks e è un esploratore, ama la sua fortuna, ama i suoi soldi, inteso come fortuna pecuniaria. Ed è un pick eater, nel senso che è un po' selettivo nel cibo. Ed è questo il suo vero problema agli inizi. Allora, intanto carichiamo perché mi sa che ci vorrà, almeno l'ultima volta mi aveva caricato veramente dopo un sacco di tempo. Quindi lo teniamo qua, intanto vi parlo del personaggio. Il problema di questo personaggio è che mangia volentieri solo roba cucinata nel croppot oppure nei negozi. Vedrete cosa intendo per negozi, se non avete mai visto questa versione di Don't Starve. Qualsiasi cosa cucinata semplicemente, cotta, cibo cotto, trovato per terra, cose varie, gli farà scendere la salute di molto. Quindi, avremo problemi all'inizio. Spero di essere abbastanza fortunato nella creazione della zona, perché se no sono dolori. Nel senso, perché fortunato? Dobbiamo trovare la città. Una delle meccaniche di Don't Starve è la creazione di città di maiali. Fondamentalmente, sono città di maiali. La prima città si chiama Swainsbury e vedrete, all'interno di questa città ci sono tanti 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 maialini e ci sono tanti negozi anche, che sono un'altra delle meccaniche che ci faranno salvare la vita, faranno salvare la vita a questo povero vecchietto, che ha una fighissima voce. E lo sentirete tra poco, spero, sentirete quando comincerà a parlare. E trovare la città ci porterà a scambiare oggetti per monete con gli abitanti del luogo, che è una meccanica fondamentale di Warbucks. Più denaro possiede nelle sue tasche, più rigenera la sua salute. Questa è già una buona cosa. Altra meccanica del gioco, le rovine. Cosa che sicuramente potete immaginare mi ha tirato sin da subito, perché sono tante piccole stanze di Legend of Zelda per Super Nintendo, di The Binding of Isaac. Sono tutte queste cose così. E ora di qua potremmo... Ciao! Ecco, ci sono due scorpioni e perché non vado a romperle le scatole? Perché possono avvelenare e quindi non ho l'antidiotto. Non è l'antidiotto, quindi non è il caso. Questi piccoli scarabaster corari, sì, stanno ballando su una palla di... Oh, grazie. Di merda. E sono utili all'inizio per trovare quello che ci serve, cioè al momento il flint. La roccia si ottiene picchiando questi piccoli stone slab. Questo cibo lo prendo ma... 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 ma me? Diciamo che non so se me ne farò veramente qualcosa. Uno dei metodi per non... Bastardo. Per non perdere salute mentale spalando con le mani nella cacca, fondamentalmente, è cercare di far cadere dalla loro pallina e quegli scarabaster corari. Non abbiamo trovato abbastanza per... per fare il piccone che mi serve. Ho uno, manca uno, due, te lo ho qua. Oh, bene. Ottimo. Perché ti serve il piccone? Perché dobbiamo andare in esplorazione. Questi sono Pog... Pog si chiamano? Non mi ricordo più. Pog. Sono dei gattini gentili, gentili. Che sono gentili? Sembrano tanto, tanto gentili. Ma poi... vedrete. Amma. Eh, se a me avessi fatto cadere una pallina anche... Peccato. Quelle sottospecie di ribellule sono la nostra fonte di palline di luce. Eh, del gioco. Spawnano se vengono uccise al 10%. Se invece vengono catturate con il... Con il solito retino, spawnano al 100%. Quindi sono tutte cose più o meno... Alcuni oggetti sono recuperabili nella stessa maniera, in stessa misura, però in modi differenti. Non nella stessa maniera. Questa è una cosa che mi servirà moltissimo. Sperando di avere un po' di culo. Nice. Ce l'abbiamo. Una cosa molto difficile da trovare all'inizio è l'oro. Ma queste cave hanno queste stalamiti che contengono un oro. Io... il mio obiettivo è raccoglierne il più possibile. Ma... 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 Una delle mie risoluzioni è venderne dei tocchi. Perché? Perché dobbiamo fare soldi. Soprattutto all'inizio per comprarci la roba da mangiare. Perché non voglio neanche stare più di un secondo a cibo... Togli sta a fare. Eh... A cibo normale. Perché? Mangio. Chi se ne frega. Non so. E infatti, come vedete, quando mangiamo qualcosa di crudo o cotto, non si è di semplice, ci dice... Mmm... E queste cose saranno la mia fonte di cibo. La di cibo, di denaro. Ora non mi conviene farlo. Questi sono... Come vedete... Uh... Taddeo. C'è la... C'è la grande lotta. Ehm... Uh... Devo attaccare i gattini. Ehm... Wow, ecco. Vedete? Perché sono stupidi questi maiali? Per questo motivo. Dov'è la città? Mannaggia. Mmm... Oh mio Dio. Ha fatto una... Ha fatto una strage. Una strage. Ah, che testa di vita. Questa carne, però, potrebbe servirmi in qualche modo. Eh... Ne... Ne... Ci pensiamo. Eh... Mangiati l'asparago anche se non è... Non ti fa bene. Sì, orrido! Mmm... Come capite, bene. Non la prende molto molto bene. Ehm... Mangiare roba cruda o cotta, sì. Semplice. Allora, questa è la città di Swainsbury. È piena di negozietti, tipo ad esempio l'accademia. Questa accademia che cosa contiene? Ehm... Un omino che venderà... Che prenderà i nostri idoli. Come avete visto, li avete visti nella... Anche prima, quando sono scappato via dai... Eh... Come si chiamano? Gli scorpioni. Dalli scorpioni. Ne avete visto due, se non ricordo male. Ehm... Questo ci servirà molto, ma costa 20 oinks. E... Come facciamo i soldi? Facciamo i soldi facendo delle buone opere per la cittadina. E vedrete che cosa intendo. Oppure parlando... Mmm... Neh, non lo usiamo adesso. Oppure parlando con i cittadini e scambiando quello che vogliono. Questo è il nostro obiettivo. Raggiungere la possibilità di avere 50 monete per comprarci la nostra casetta all'interno della città. Conviene stare nella cittadina. Questa è la nostra futura casetta, nel frattempo. Ok? E... Conviene stare al centro cittadino nei primi momenti, perché così almeno non dobbiamo usare torce e robe varie. In più abbiamo raccolto niente. Bravo me. Complimentazzi. E... Intanto vi faccio vedere un po' la zona. Questa. Sarà la prima cittadina del mondo. Tanto andiamo... Se raccolgo per terra questi legnetti non si arrabbiano. E le guardie si arrabbiano se noi prendiamo qualsiasi cosa, qualsiasi cosa che non sia cacca, dal pavimento. Cioè, se tiriamo giù i berry bush, se raccogliamo il cibo dai campi arati e tutte queste cose qua. Quando ci posso entrare adesso? E questo è il mineral exchange che ci servirà, ad esempio, per vendere il nostro oro in cambio di dollarozzi. Allora, questa è la città, è bella grossa in mezzo. Vorrei esplorarla velocissimamente. Perché? Vabbè, finisco la torcia, non importa. La rifaccio poi. Tanto ho i legnetti per farlo. Vediamo un po' ancora qua sopra. Cos'è meno? Mi faccio il buchetto. Perché la mia ossidia... La mia ossidia non perdona. Il cibo non è proprio una crema. Ok. E ora incominciamo a lavorare per la cittadina. Allora. Cosa intendo? Lavorare per la cittadina. Avevo visto della cacca che non ho raccolto. Volontariamente. Ovviamente, perché... Dove diavolo è finita? Come vedete, quando mi avvicino mi dicono Hai reliquie? Hai roba tagliata dagli alberi? Hai del mangiare? Hai del... Ecco, se noi diamo determinate cose... Eccolo qua. Oppure raccogliamo la cacca? I cittadini ci dicono Oh, bravo, grazie! E ci danno dei soldi. Il nostro personaggio più soldi ha nel portafoglio, Più rigenera la sua salute. Grazie. È cacca? Sì. Ampig. Cioè, non maiale. A maiale, perché altro è quello che dicono. Allora, c'è altra cacca in giro? Perché poi devo andare a fare le cose cattive. Perché devo andare a fare della cattiveria. Oh, shit! Così proprio attaccata? Un altro bioma nuovo, è il bioma della foresta. E a quanto pare questo bioma è immediatamente vicino alla cittadina. Che non è proprio il top dell'esistenza, devo dire la verità. Ah, ok. Non l'avevo fatto. Un po' di legna mi serve. Sarebbe caruccio. Uova? Le lascio qua. Le lascio qua, poi vi spiegherò perché. Per intanto non ci servono, fondamentalmente. Ma quella carne, secondo me, rimane lì e non ci serve. Invece raccogliere... Aspettate, devo fare due ragionamenti. Raccogliere... Dio. Ancuno non mi interessa, lo so. È brutto. E avete visto una cosa altrettanto brutta da sotto? Vediamo un po' se si vede. Ehi. Ventilla. Scusate, ciao. Questo posto non c'è niente adesso. Un altro posto in cui avventurarsi. E lo vedremo, lo vedremo. Allora, poi, 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 poi. Mi servirebbe un altro... Ah, forse no. Perché non mi ricordo più com'è in Non Don't Starve. La generazione delle science machine e cose varie. Andiamo vicino alla nostra, questo invece. Un negozio che permette di comprare da mangiare. Che è quello che dovremo fare. Quanto costa? Dieci, trenta, dieci. Mottonna, quanto cacchio costano? Oh, mamma mia. Andiamo poi a comprare due cookies dopo. Andiamo un attimo vicino alla nostra casetta e ci facciamo subito davanti. Così almeno ci portiamo avanti col lavoro. Ci portiamo dietro... Allora, intanto facciamo uno. Facciamo così. Così. Crea science machine. Cacciala qua, che te frega. Poi, altra cosa. Backpack. Backpack. Poi, altre cose. Non mi ricordo più. Sono in confusione. Allora. Mi serve una pala. Perfetto. Faremo arrabbiare della gente. Ve lo dico già. Però, vorrei anche dare dei petali alla gente che ne ha bisogno. Cosa volevi? Te volevi i petali? No, non eri te. Oh, chi è che voleva i petali? Ecco, non ci mancava anche. Te volevi i petali? No. Oh, porca miseria. Scusate, devo andarla a vedere. Allora, i petali, per me sono tenuto... Perché mi sono tenuto? La fiorista. Fiorista. Te. Sì, voi. Voi, voi. Perfetto. Voi volete i petali. Dai, 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 su. Come on. A posto. Ora possiamo andare a comprarci da mangiare. Un secondo. Dov'è? Ottimo. Chiedo scusa. Ma tutto è troppo costoso, non vorrei dire, ma... Madonna, quanto costa sta roba? Vabbè, Pumpkin Cookies, che ci rigenerano un pochino. La madonna quanto costa sta roba. Perché? Non ho messo soltanto roba da dieci. Mamma mia, che disagio. Allora, e nella notte facciamo delle brutte cose. Andiamo a rompere le balle a... Hai... Cicciuzzi con... Con... Le berries... Non lo vuoi. Dove diavolo siete? Ah, più a est. Questo farà arrabbiare qua semiperrennemente le guardie. Ma... Non ci interessa. Sono lontano. Che ce frega a noi. Il metodo di... Ok, come vedete. Il metodo di... Fuga dalle guardie è abbastanza facile. Perché poi anche loro non ci seguono. Oh, shit. Anche noi tendono... Anche loro tendono a non seguirci dopo e scappare un attimino. Quindi, perché non andare a rubarli tutto? Poi, saranno arrabbiati forever con noi. Non mi interessa. Perché sto facendo questa cosa estremamente rischiosa? Ma, Mac, hai appena detto che le berries non le puoi mangiare perché... Wow... Perché non sono convenienti per la tua salute mentale? Sì, molto vero. Ma io non le voglio mangiare. Una delle fonti più redditizie di questo gioco è vendere... E vendere le bacche ai cittadini. Vendere le bacche ai cittadini costa 4 monete. Vale 4 monete d'oro. Quindi capite bene che se vi fate una farm vicina alla vostra casa... E la mia casetta è sossordi. Sossordi. Quindi, adesso, poi nella giornata di domani, ci andiamo a prendere un po' di soldini. Ma prima volevo un attimino parlare con... Allora, con gli alberi. Un attimo, dove sei? Eccolo, compio. Perché un po' di legna male non ci fa, eh? Dietro a questi alberi ci potrebbero essere... Niente. Ok. Serpenti. Un po' come in... Come in Shiprecht. Vi devo dire la sacrosanta verità. Shiprecht non mi ha esaltato. Non so se si era capito quando abbiamo provato il gioco. Abbiamo provato il gioco. Ci abbiamo fatto una trentina di puntate. Però... Questo, di primo acchitto, per quanto sia, secondo me, estremamente più difficile di Shiprecht, una volta capito. Mi diverte di più, per il momento. Perché questa cosa degli scambi con i cittadini, mi piace. Mi piace questa idea. Vedrete poi anche altre cose. E tutto potrà andare in vacca molto, molto, molto velocemente. Anzi, andrà in vacca molto, molto, molto velocemente. Quindi... Oh! Questo bastardo è un ladro. Se mi... Qualora mi avesse pigliato, ecco così. O pigliato, poi italianissimo. Qualora mi avesse, poi dico pigliato. Mi sembra ottimo, giustissimo. Ma qualora mi avesse pigliato, mi avrebbe dato, mi avrebbe rubato un sacco di denaro. Mi avrebbe fatto cadere un sacco di denaro. E a quel punto mi avrebbe potuto rubare. Non solo lui, ma anche le guardie, oltretutto. Quindi, non proprio il top della vita. Allora, giuro che faccio ancora due giri per vendere delle bacche. E poi andiamo ad esplorare. Ve lo giuro. Ve lo giuro sul canguro. Un attimo. Allora, dove diavolo? Diavolo siete. Voglio gente che mi compri le bacche. Tacci loro. Oh, non ce n'è. In questa città vogliono tutti. Le moglie, le delle... I fiori. Porca, con quella vacca l'altra. Tai! Compratori di bacche? Cosa è quello? Ah, compratore di bacche. Eccolo. Tieni. Tutto bene. Caracoliamo la cacca. Scusate. No, è mio. Non ci provare. So che era pericoloso quello che stavo facendo, perché stavo per rubare tutto il cibo. Ma ci siamo salvati, va? Allora, cerchiamo ancora altri mangiatori di bacche. Magari è un venditore. No. Questo dà cibo da cuocere. Questo venditore vende cibo da cuocere. E noi adesso prima di... Della notte andiamo a comprarci da mangiare perché... Se no... Qua si mora di fame. Buongiorno. Come vedete stiamo riempendo il nostro portafoglio così. Abbastanza agevolmente. C'è qualcuno che voleva la carnazza nel gioco. Sto cercando disperatamente di capire. Qualcuno che non costa... Qualcosa che non costa una marria di denaro. I froggy bandwitch. Anche gli ogni nugget servono, se non sbaglio. Però questo... Mi posto a 10. Credo che facciano meno 2 da 5. Di più 2 da 5. Oh. Oh. Ok. Perfetto. Qualcuno voleva la carne. Scusate se ogni tanto devo mettere in pausa. Ma è che devo capire, devo ricordarmi che cosa vogliono i vari venditori. Come vedete sono di 50.000 tipi diversi. Quindi è un po' un problema. Ok. Queste sono waffle. Ok. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Ottimo. Ora abbiamo la panza piena. E possiamo andare... Sapete che c'è? Te. Fia. Dare monster meat ai maiali. Non li trasforma in werpig. Quindi possiamo stare tranquilli. Da quel punto di vista. I pogs stanno pestando con qualcuno. Ah. lotta con gli attoli o contro Pog. Nel frattempo. Sto passando vicino a una guardia che sicuramente... A cui starò sicuramente sulle balle. No. A questo non sto sulle balle. Ok. Andiamo a fare altri giri. Dove possiamo andare? In basso o a destra? Andiamo ad esplorare. Perché? Il cosiddetto spell hanking è una parte molto importante di questo gioco. Direi quasi fondamentale. Siamo a piena vita. A piena salute bregamente. Perché adesso ci siamo un attimino fermati. Perché abbiamo 5 oink. e non ne abbiamo di più. Arrivando a 10 oink... Non mi ricordo più. Mi chiedo scusa. Arrivando a 10 oink dovremmo essere in grado di... Oh shit. Questo idol mi piace. Ma... Come avete potuto apprezzare? Questa è una trappolona gigantesca. Quindi... Vado un attimo a vedere cosa c'è dall'altra parte. Ah! Fuck. Queste invece sono pressure pad. E quindi... Converrebbe non salirci sopra. Poi ci saranno altri modi per... Per... Fermare. Le trappole. Oh! So che non è una buona idea. In realtà. Ma possiamo farvi vedere... Posso farvi vedere il ball pain hammer. Pi 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 pi. Questo martellino ci permette di cesellare alcune... Alcune... Alcuni oggetti. Come avete visto. E... Ci farà cogliere degli idoli. Questi idoli costano lira di dio. Cioè 10... C'è 10... Monete. Ok. Via di qua. Io non ci voglio provare. Non l'ho mai provato in realtà. Devo dirvi la verità. Quella zona... Non l'ho ancora... Non l'ho ancora provata. Quelle... Quelle trappole non ci sono ancora passato bene davanti. Quindi... Potrebbe essere niente... Come potrebbe essere un dramma in terra. Quindi... Evitiamo. Nel dubbio. Cosa dite? Allora. Nel legnetti. Altra cosa di cui... In cui sono... In cui sono la ricerca. È ferro. Il ferro che fa la sua comparsa in Don't Starve. Ci serve per fare delle cose molto molto più velocemente. Nonché anche ad avere degli oggetti diversi e nuovi. E si trova in determinati... Con determinati robotoni. Ci sono i robotoni, sì. Del party robotiche in realtà. E... 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 Dov'è il macete? Grazie. Con party robotiche e anche... Proprio dei biomi. Che spawnano. Ferro e non solo. E non solo ferro. Tra l'altro. Ma quello lo vediamo. Io vorrei dare un po' le balle a quei lumini. Ma non ho... Non ho la tela. Il problema della tela che è molto molto più difficile da recuperare rispetto a Don't Starve normale. È molto più facile trovare l'oro, se sai dove trovarlo. Ma è molto più difficile trovare la tela. Perché? Perché la tela è... È... Custodita da... Custodita da... Dei ragni un po' particolari. Ecco. Definiamoli ragni particolari. Che avete visto forse con la coda dell'occhio una volta adesso mentre stavo avventurandomi. Non so se l'avete visti di nuovo ma... Comunque... Allora, intanto mi faccio un'altra torcia di riserva perché mi sembra di aver capito che... Allora, allora, altro bioma. Andiamo a farci ancora due gi... Non sono tranquillo come in Don't Starve Together a muovermi nella notte. Solitario nella notte va. Se le incontri gran paura fa. Ma... Ma mi sembra abbastanza tranquilla la situazione per il momento. Il suo volto alla maschera tigre. Spider-Man. Oh, shit. Eh, però... Alt. Frega, cazzi. Volpin Hammer. Pi, 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 pi. Se l'avessi preso a martellate invece... Uffero! L'avessi preso a martellate invece l'avrei ridotto in frantumi e l'avrei trasformato in polvere d'oro. Quella polvere d'oro... Uno dei modi per trasformarli in oro è darla da mangiare a questi personaggini qua che sono cucciolosissimi. Non mi ricordo come si chiamano poi vi darò... Vi dirò come si chiamano. E se mangiano quattro, tre... Non mi ricordo se tre o quattro... Wow, quella roba che si è mossa molto lentamente se ti è volta verso di me... Non è... Scrivono Thunderbird. Provate a immaginare perché. Allora, tre ferri... Io direi otto se li trovo. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Vabbè, sì, va andato a loro. Se ne succano tipo quattro o tre, non mi ricordo bene quale sono dei due... Trasformano, si trasformano, cioè fanno la cacca e fanno una noce di d'oro. Sì, sì. Sì, ebbene sì. Questi non conviene avvicinarci. Sì perché rimangono attaccati e ti tolgono la salute mentale e anche un punto salute ogni tot. Contieni roba, quindi... Sono un po', quelli sono un po' le balle di fieno di Don't Starve. Ecco, cinque... Wow! Scusami, non volevo disturbare. Vabbè, ma cinque per il momento mi stanno anche bene. E vedrete cosa ci faremo. È un po' piccolo come bioma in effetti. Sì, 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 sì. È un bioma piccolino, poi dovremmo andare a rompere le balle anche a Sti Thunderbird. Però al momento direi che no. Direi che anche no. Eh? Va là. Va là su. Non andiamo a rompergli troppo le palle. Ehm... Almeno tornerei un attimo a casa e poi torniamo... E poi, tanto ci salutiamo e poi ci vediamo nella prossima puntata. Così almeno... Siamo a posto. Dove diavolo sono? Mi sono completamente perso. Strada lontanissima per arrivare a casa e consegnare l'idolo. È l'idolo... Per chi è appassionato di wrestling. Ci sono oggetti... Ehm... Craftabili in maniera leggermente diversa, in maniera più facile. Ad esempio Walking Cane è una cosa che per gli appassionati... Di Don't Starve, quelli un pochino più pro... È molto utile. È un oggetto molto utile. Vai a picchiare... Porca di quelle facce. Vai a picchiare contro il mordo. Walking Cane è un oggetto molto utile di Don't Starve. E serve soprattutto per... Oh... Wow! Sei zompato su all'improvviso immediatamente. Ehm... Walking Cane si può craftare... Facendo seccare delle parti di un mob nemico... Io devo mangiarmi una berry. Lo so che non è il top della vita. Ma va bene così. Questo è un Iron Hulk che... Do cui possiamo recuperare del ferro. Ma è meglio non rompergli le palle al momento. Ve lo posso assicurare. Questo è ancora peggio. Quindi no. Andiamo su. Dovremmo arrivare proprio... Ci arriviamo al pelo, forse. Però va bene. Però va bene. Anche perché poi intanto rifaremo tutti i soldi... Che abbiamo perso. Ah... E piano piano... Potremo fare la nostra casuppola. Allora, intanto... Arriviamo qua. Andiamo a dare... Ci sono poche persone che accettano i berries. E questo un po' mi turba. Perché... Nell'ultimo tentativo avevo tipo... Praticamente solo gente che accettava berries. Era bellissimo. Era il mondo perfetto. E sono diventato ricco in tempo... Meno 5. Neanche in tempo 0. Ah, grazie. Molto gentile. Mi ero dimenticato che avevo raccolto la cacca. Dove... Dov'è la... Sono tipo in Cambogia. Bravo me. Tanto scendiamo giù. Quanto hai 5? Ce la faccio, ce la faccio. Tranquili. Non muoio di fame. I don't starve. I never starve. Disse morendo facile di fame nella prossima puntata. Di qua. Guarda, già che ci sei. Giusto per assicurarmi qualcosa di meglio da mangiare. Andiamo. Andiamo al Daily Waffle. Gli waffle... Sono un nuovo... Sono una nuova... Un nuovo cibo indie. Non ricordo. Quanto mi fa... Allora, scusatemi eh. Però è una cosa che magari serve anche a voi se... Negozi, negozi, negozi... Alt. Shopkeep. Offige. True Daily. Eccolo qua. Trovato. Waffle. Waffle. I waffle curano 37,5. Non mi interessa. Mi serve qualcosa che faccia... Mi curi tanta... Oh, porca vacca. Va bene. Arrivo. Turkey Dinner. Turkey Dinner costa tanto, ma riempie tanto. Se non ricordo male. 75. Tanta roba. Non le abbiamo però. Vabbè, ma per il momento allora mi comprerei i pumpkin cookies. Cioè, mangiamo e siamo a posto così. Andiamo in giro per la città a dare altre bacche. Uh, salve. Non vuoi dire che sei proprio quello. C'è di quella miseria. Ho pochissimo tempo prima che vanno tutti a nanna. Erano tutti nella parte... Nerd Ovest. Nerd Ovest. Allora, qua... Dov'è il... Lo scambio di monumenti? Dovrebbe essere questo, eh? ho rimosso chiedo venia non sei tu però posso darti un oro what? non eri tu what? ah sindaco ok era sindaco chiedo scusa chiedo scudo allora tanto ritorniamo che vedo tipo quello che sto facendo ok perfetto il sindaco dove diavolo non mi ricordo più giù intanto devo andare cosa ho fatto a proposito si a proposito di mod ho messo soltanto il geometric placement perché perché non ce la posso fare a non avere il geometric placement e e e e anche una cosa per sistemare l'inventario perché che ho premuto per sbaglio qualche secondo fa e ho ordinato tutti i miei oggetti scusate allora te a te andava bene il mio oro quindi mangiatelo grazie molto gentile ma io non cercavo te cercavo il grande capo del mio disto dove diavolo era? c'era un dato era questo era questo ho bisogno di tuoi soldi per la tua salute per la tua e la mia salute se io do un idolo a lui mi da un affare da 10 un pezzo da 10 come potete vedere ora ho 18 e come vedete anche se è sera e poi sarà notte io guadagnerò salute piano piano più cibo più soldi più soldi più denaro avremo più potremo guadagnare salute a un certo punto la salute non sarà più un problema la salute mentale intendo intendo la salute mentale non sarà più un problema perché sto girando intorno come un imbecille perché ve lo spiego subito non vi preoccupate sto cercando sto guardando intorno se c'è del lavoro da fare per il prossimo giorno perché se noi tagliamo le erbette dove è casa mia? sotto se noi tagliamo le erbette alla cittadina se noi tagliamo delle erbette alla cittadina avremo dei vantaggi potremmo venderli alle persone per del denaro e anche dove diavolo è? eccolo cheers ecco perché è del ferro nel frattempo e potremmo anche poi riscuotere del denaro perché abbiamo fatto una buona azione ma mi sembra che tutti questi cose siano a posto piano piano si rovinano ma sono tutti ben messi sono tutti ben curati al momento mannaggia la cippa vabbè ok quindi con la prima giornata ci possiamo fermare qua registrerò adesso un'altra puntata perché mi sembra carino e giusto perché se no siamo nei guai con le registrazioni cercherò di farne un pochino più in serie rispetto al solito perché la cosa che non mi piaceva e che penso non piacesse anche a voi che ogni inizio di puntata la mia questione era cosa stavamo facendo oh non mi ricordo più oh era 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 e così i primi due minuti tre minuti erano così tipo non mi ricordo più è passato troppo tempo ecco invece se ne registro due o tre insieme magari è un po' meglio e poi li vedrete così li vedrete comunque io come dico sempre quando quelle rare volte che è successo leggo tutto se mi date un consiglio non lo vedete nella puntata successiva ve lo scriverò nei commenti di solito vi dico grazie me lo tengo presente perché poi quando lo riregistro lo faccio grazie mille abbi pazienza in questa puntata nella prossima puntata non lo vedrai ma quella dopo sì di solito faccio sempre così quindi continuate a darmi dei consigli se lo se vedete se avete dell'esperienza con Hamlet e perché mi serve perché io sono ancora abbastanza sono poco esperto in Hamlet anche indostarvi in generale non è che sia un fenomeno però comunque qualcosina qualcosina mi ricordo è che mi perdo e faccio un sacco di giri quindi se vi è piaciuto il video cliccate mi piace se non l'avete ancora fatto iscrivetevi condividete con persone a cui può interessare questo genere di cose un inizio di serie mi raccomando dateli tanto amore quindi mi piace condividetelo con amici forum cose mazzi vari se volete reddit eccetera 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 mi farebbe molto molto piacere mi dareste sicuramente una grossa mano grazie anche ai patron come vedete che mi supportano e mi supportano su patron.com slash glitcher in cambio avrete serie esclusive solo per voi se volete offrirmi una birra non mi dispiace sicuramente otterrete qualcosa in cambio vedrete un sacco di ci sono ormai ci saranno tipo una decina di ore di video esclusive solo per voi tra serie esclusive e video speciali in più potete far valere doppio il vostro voto per le live del martedì e della domenica dei giochi delle live del martedì e della domenica patreon scusate twitch.tv slash glitcher è il mio canale principale quello di twitch se mi volete bene andate su twitch e iscrivetevi perché stremo tutti i giorni tranne qualche sabato oppure qualche domenica a scelta quando le mie partite da allenatore lo permettono diciamo comunque sei giorni su sette poi ci sono sempre per il momento è tutto noi ci vediamo alla prossima puntata grazie mille tata grazie mille